Le Good Bank, nate dalle ceneri dei quattro istituti di credito posti in risoluzione, sono vicine alla cessione, con la speranza di firmare a breve uno o più accordi che, oltre a soddisfare vincoli europei, garantiscono cessioni nel segno della continuità. Dopo oltre dieci mesi di duro lavoro, crediamo di essere vicini al punto di svolta tanto atteso. Queste le parole di Roberto Nicastro, presidente delle Good Bank, in una lettera inviata ai dipendenti dei quattro istituti di credito, Nuova Banca Marche, Banca Etruria, Carichietti e Cari Ferrara, ecofirmata per ciascuno degli istituti dai rispettivi amministratori delegati. La traversata che abbiamo compiuto in questi mesi non è stata delle più facili, scrivono, abbiamo affrontato e resistito assieme a svariate tempeste. Ora l'atteso ingresso in porto, oltre a dover rispettare i vincoli fissati dalla Commissione Europea, deve tenere in considerazione anche le richieste della BCE ai compratori. Tutto ciò chiede rinforzi, impegni e tempi aggiuntivi. Sabato la commissaria dell'Unione Europea ha pubblicamente espresso la disponibilità a essere flessibili sui termini, così da permettere se necessario la finalizzazione tecnica delle trattative in corso oltre il 30 settembre, come da noi lungamente richiesto. A breve però speriamo di firmare uno o più accordi che, oltre a soddisfare i vincoli europei, conclude Nicastro, garantiscano cessioni nel segno della continuità e che tengano il più possibile conto della peculiarità di ciascuna banca e degli interessi dei territori che rappresentano e delle risorse che vi lavorano.